Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzana e P1 Variante in direzione nord, in carreggiata opposta rallentamenti ancora una volta per traffico tra Firenze e Sud e Incisa Reggello. Sulla Firenze e Mare rallentamenti ancora una volta per traffico tra Prato Ovest e Lucca Est nella carreggiata in direzione mare. In Fipili segnaliamo 3 km di coda per cantieri tra la Strassigna e Ginestra nella carreggiata in direzione mare. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza sul tratto compreso tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Informiamo inoltre che da domani 9 giugno 9 treni regionali veloci effettueranno fermata anche nella stazione di Empoli. Prima di salutarci per il traffico navale informiamo che i traghetti Piombino Portoferraio delle 14 e delle 16 quest'oggi sono cancellati. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!